La straordinaria artista irlandese Sheneiro Connor ha lasciato un'impronta indelebile nella musica. Purtroppo oggi ne danno la tragica scomparsa ai suoi familiari. Ci lascia all'età di 56 anni. Originaria di Dublino, Sheneiro Connor ha affascinato il mondo con la sua voce unica e il talento musicale, regalandoci dieci magnifici album in studio. Uno dei momenti più alti della sua carriera è stato quando il brano Nothing compares Sheneiro è stato incoronato come il singolo numero uno a livello mondiale nel lontano 1990. Oltre al successo musicale, la sua vita è stata costellata anche da momenti difficili. Nel 2015, Sheneiro ha condiviso sui social media la sua scelta di non cantare più alcune canzoni, poiché non riusciva più a connettersi emotivamente con esse. Nel corso della sua vita la cantante ha affrontato battaglie contro la depressione, problemi esistenziali e di salute mentale. Nel 2015 ha dovuto fare i conti con un'overdose, ma grazie al supporto del suo psichiatra, è riuscita a superare momenti difficili. Una delle perdite più tragiche che ha affrontato è stata quella del figlio Jan, frutto della relazione con il cantante Folk Dono Money, trovato morto a soli 17 anni dopo essere scappato da un centro psichiatrico in cui era stato ricoverato per tendenze suicide. Oltre all'ascito musicale, Syned ci ha lasciato un messaggio profondo riguardo alle sfide della vita e alla lotta personale con le proprie battaglie interiori. Oggi, possiamo solo sperare che abbia finalmente trovato la pace che ha cercato per anni. La sua eredità e il suo impatto saranno sempre nel cuore dei suoi ammiratori, e la sua musica continuerà a toccare le anime di chiunque l'ascolti. Grazie a tutti.